buongiorno che poco basta eh, che poco basta guardate che gamba è questo, guardate polpaccio ariano guardate che gamba di pure razza ariana facciamo le impressioni a caldo da questa salita la salita non è un gran capo, sale solo al 12% gente come noi per il riscaldamento per oggi va bene vabbè, per sciogliere le gambe per sciogliere le gambe te se ti sciogliere l'altro ci rimane nulla oramai sono fuso scusa no, c'è il regista che sta facendo i filmini no, mi è partito il sasso e l'ho preso ci dica, eccolo, eccolo di compagnia questo, guarda, di compagnia guarda lo spirito, agli ultimi 20 metri buongiorno non è che finisce nel forso siamo come di uno con una voce però è uguale guarda, guarda 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 c'è ancora terminamento da salita guarda a sinistra non qui sa di Cimune questi frasoni è un stoppio non no ma sta durina si senta guarda non stiamo all'altro il fanno sotto è un ottimo 8.0 watt Quattro Sì L'effetto di moulin Ora ti spingo E' che a voi il ciccione della squadra E' che si va via E' che a voi E' che a voi E si va via Eccolo Bravo Julien è sempre funzionando che bavaro e tu sei è che tu li fuppi la rosa questo è che cosa come si chiama è vero Grazie a tutti la salita del Gardeccio semplicissima per uno che viene ora vedi qui, spiana anche qui ora sta spianando a 18 c'è una spianata lunga a 18 minchia se l'è dura vedete anche Bottolotti si sta alimentando fino a poi comincerà la salita eh attento dove viene poco però micidiale micidiale quando comincia lascia lui lo finì nel capo in manubrio maledetto maledetto che addiccia vedete Bottolotti in difficoltà sul bellicino ha già chiamato il boss per il cambio non c'è più gomme mamma mia ma che serve dove ci vanno con la fincia o l'effetto no rifugio è là dove lo vanno rifugio e Sandrè mamma mia sì sì buona casca Sandro sta attento perché Franco stavo dicendo di Franco eccolo stavo dicendo di Franco ha detto Sandro sta attento a Franco è una più a molle 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 Grazie.